Ma secondo lei l'arte è un qualcosa di... la bellezza che comporta l'arte è un qualcosa di soggettivo o oggettivo? Perché, per esempio, qua mi viene in mente sempre Lucio Fontana, no? Con i tagli sulla tela. Io, ovviamente ignorante in materia d'arte, non ne comprendo lì la bellezza, il valore, non la capisco. Ma uno non deve capire, perché devi capire. Insomma, comunque la bellezza è oggettiva, cioè la bellezza, perché capiate bene, è come la figa. Ok. Ora, una figa bella si riconosce? Sì. Una figa brutta si riconosce, poi c'è una figa media? Appunto, allora, è chiaro, c'è la bellezza, è oggettivo. Però i tagli sulla tela di Lucio Fontana? No, ma quello è un altro... Ok, è un altro... Non riguarda più la bellezza, quello lo spieghiamo dopo.